Ciao ragazzi e ragazzi, oggi sono qua per farvi vedere i miei preferiti nel 2020 partiamo, vado un pochino di corsa, da un contorno occhi che l'ho scoperto da poco ma mi trovo veramente bene e si chiama al verde ha questa rotellina ed è molto 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 buono non ha parabeni, non ha nulla di allergico quindi io mi trovo veramente bene io l'ho scoperto da poco però era nel 2020 e l'ho voluto menzionare poi partiamo dai fondotinta che sono due e li adoro questo di Kiko, avevo già parlato, è lo 06, fantastico, ne ho presi quattro di questi due li ho già ultimati e poi ho scoperto questo qua di Yves Rocher meraviglioso, veramente sia il colore, la corposità, tutto quanto è una meraviglia e non è coprente molto, io non li uso molto coprente perché per fortuna non ho di quelle necessità di coprirla poi passiamo ai correttori Enio 3 praticamente che utilizzo sempre questo qua che ormai mi sono innamorata e lo utilizzo sempre, tutti i giorni questo qua poi che tampono qui è un po' aranciato, molto molto bella di Wicon che io vado sempre a tamponare con il mio pennello di Sephora super gettonato il mio, non mi abbandona mai e poi ho scoperto questo qua di Clio fantastico vi invito a provarne, ha tanta gamma di colori, è molto corposo, schiarisce, cioè ottimo direi allora poi passiamo alle terre, le terre io quest'anno amo alla follia Zao di fatti, guardate, l'ho consumata ben bene è un colore che a me piace tantissimo cioè proprio merita, eh e poi è senza parabeni, insomma è tipo vegana, quindi eccezionale l'altra che a me piace da morire è questa qua di Nabla ed è anche questa consumata molto bene e io utilizzo a volte come contouring un pochino perché essendo scura così mi piace utilizzarla un po' come contouring e questa come terra o blush a volte non uso il blush, uso solo queste due come blush invece utilizzo le mie scoperte di quest'anno che sono vabbè, questa è proprio di ultimamente è un blush che ho indossato anche oggi che è troppo 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 buona sia è waterproof sia come blush che come ombretto è fantastico ragazzi è di Too Faced e ve ne avevo parlato poco tempo fa poi ho scoperto questo di Kiko della nuova collezione natalizia ho acquistato questo colore che molti dicevano no, 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 no il colore è questo qua non scrive, eccetera invece anche per le più olivastre per le pelli olivastre guardate si nota cioè garantisco che si nota se no non l'avrei preso cioè ha il suo bel colorito delicato ma pieno il giusto come piace a me senza eccedere è molto bello questo qua è il numero 01 poi avevo preso anche lo 02 che è quello intermedio rosato ma ho menzionato questo perché lo preferisco passiamo passiamo agli illuminanti il mio illuminante che ho menzionato in questo anno più utilizzato diciamo tra virgolette è questo di MAC ragazzi che vi devo dire io sono innamorata persa è il più il più gettonato se vedete è stato ben consumato cerco di utilizzare in questo lato qui in modo da non ma io proprio questo è il top ragazzi il top quindi come illuminante è solo questo non mi sembrerà vero ma è così dopodiché passiamo alle palette occhi e qui c'è da sbizzarrirsi ne ho prese poche perché in realtà sarebbero state molto molto di più ma era impossibile il video sarebbe stato lungo 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 la palette che mi sento di menzionare per primo è questa qua di Kiko una scrivenza una burrosa scriventissima proprio e proprio duratura mi piace tantissimo ed è quella della collezione natalizia questa qua è la 02 ho preso anche la 01 veramente le ho prese tutte però quella che mi sento di di dire la mia preferita è questa perché ha dei colori qua scuri hai chiaro hai dorati è la più completa per il mio gusto poi questa qua che vi ho fatto vedere poco tempo fa la sto utilizzando non tutti i giorni ma quasi mi piace tantissimo oggi ad esempio mi sono truccata con questo 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 cioè è illuminante fantasmagorici non ho utilizzato né questo né questo però guardate è fantastica questa palettina costa poco dalla revolution starà consigliata da OVS penso che la troviate ancora poi che dire ovvio non potevo non menzionarla nel 2020 non è molto che ce l'ho ma posso garantire che l'ho è vegana e quindi è particolare è tipo burrosa e quindi non essendo chimica più di tan cioè è vegana ha dei della consistenza particolare non mi fa allergia e io l'amo anche perché ha dei colori molto belli e particolari questa al top poi questa che ho ricevuto a Natale e mi ero dimenticata di dirvi avevo ricevuto altri regali ovviamente ma tipo questa che vi voglio far vedere perché è stratosferica mia nipote oltre a quella meraviglia che mi aveva fatto mi ha regalato questa che è una e una F a Ioann e lei Francesca un regalo molto molto carino vedete molto carino e poi ho ricevuto questa che anche questa è ipoallergenica vedete non so se leggete comunque è fantastica questa qua ha dei colori burrosi è una scrivenza cioè proprio è nude ma è veramente composta bene e anche questa è il top anche se è da poco che ce l'ho e poi ragazze poi ne vogliamo parlare di questa non potevano menzionarla non l'ho utilizzata tantissimissimo ha dei colori un po' freddi ma ben menzionati insomma sono belli e poi Natasha Denona come si fa a non amarla ho anche le palettine piccole che anche quelle non sono male nel 2020 non non ho qui ma non sono per niente male mi ero dimenticata di farvi vedere un blush che io illuminante che molti non hanno apprezzato mentre io sì questo qua che è lo 01 è un blush di Kiko dalla nuova collezione questo è l'illuminante guardate un po' e questo è il blush che io ho pertanto ho utilizzato oggi molti non l'hanno apprezzato io sì perché io amo anche quelli in crema quindi sono queste qua è una combo spettacolare scrivente perché molti dicevano di no invece come avete potuto vedere lo è poi questi ombretti scusate sono qua questi uno spettacolo della natura e questo questo è quello di stila come vi avevo già mostrato non so come definirlo se non meraviglioso li avevo già fatto vedere e questo niente le vorrei altri se non fossero più sold out non più guardate e questo come avete già visto nei vari tutorial precedenti ne ho anche altre di colorazione ma io sono innamorata di questo perché è un po' spartù lo abbini bene con tutto sfumabilissimo eccezionale insomma non si può dire niente di male poi volevo farvi vedere anche scusate le matite per sopracciglia che io per il mio colorito di capelli utilizzo tutti i giorni questa di Anastasia sono andata a ricomprarla perché l'avevo terminata e questa è la terza praticamente questo colore qua è proprio il mio cioè si abbina bene con il mio e non è facile da trovare anche perché poi sono sincera è un po' cara sui 21 22 euro non è poco però guardate ha una resistenza vi dura tutto il giorno è sfumabile è facile da usare ha il colore che non si trova dappertutto insomma anche il suo pennellino anche se io non utilizzo molto però insomma che dire alla fine ho provato altre matite ma sono ritornata da lei perché forse chi più spende meno spende non so cosa dirvi ma è fantastica quindi poi il solito mio mascara per le sopracciglia che è abbinata a quella matita vedete come è brillantinoso è fantastico insomma questo qua è di benefit sta quasi terminando ma è due anni che c'erò quindi dura parecchio insomma bene ora passerei al mascara il mascara anche se io vi avevo già detto più volte che io utilizzavo quello di Huda Beauty nel 2020 si l'ho utilizzato e l'ho terminato non ho qui il il contenitore vuoto perciò comunque quello di Huda Beauty l'ho adorato e ultimamente sto utilizzando di nuovo questo di Kiko che mi trovo l'extra scalp volume mascara è fantastico vi faccio vedere cioè non mi dà né allergia e poi volumizza bene le ciglia perché ha questo scovolino molto molto cicciottoso fatto strano insomma poi è questo bello nero in estate uso questo ma waterproof in inverno no poi passiamo all'eliner che io mi trovo benissimo con questo di Kiko nella ultima collezione mi trovo benissimo sempre di Kiko con questo questo è nero questo qua è grigio perciò e ha due pennellini molto buono anche questo qua però non lo vedete ne ha due tipi quindi se uno vuole le linee un po' più con la punta più 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 grossa più sottile insomma con questo viene bene e poi la mia matita occhi in assoluto fantasmagorica è quella nera di Nabla che ve lo dico fa è fantastica ragazzi è quella che indosso e poi è bella nera talmente nera e scura insomma si fa fatica quasi a toglierla col bifasico si toglie bene ma per dire quanto è bella scura come piace a me ed è già la seconda che utilizza poi c'era una palettina occhi che devo chiedere scusa l'avevo dimenticata di Wonder Woman di Kiko mamma ragazzi non volevo prenderla tempo fa ovviamente poi sono sono stra-innamorata di questa e lo sto utilizzando tantissimo se vedete sia questo con questo blu cioè mi piace non da impazzire qua alla coda dell'occhio non l'ho indossato oggi però questa qua la sto utilizzando tanto e non volevo prenderla molto molto gettonata da parte mia poi passiamo a questo prodottino di Kiko che ce l'ho scuro e chiaro questo l'ho utilizzato oggi come rossetto è un'altra carina fa parte della gamma che va bene sia come rossetto bellasci e ombretti questo qua è quello più chiaro no nel medio poi c'è chiarissimo nude rosato e più sul rossiccio che avevo già visto questo è quello mio preferito che l'ho menzionato matita labbra questa di nabla la 0 4 che è quella che indosso oggi molto carina molto molto è un pasparto diciamo che si abbina bene a qualsiasi di rossetto bene o male poi un'altra matita volendo per definire il punto qui marrone dell'occhio per fare un bel trucco e questa qua di revolution che avevo fatto vedere marrone si traccia questa linea marrone come punto di riferimento per poter poi sfumare i vari ombretti questa è ottima rossetti ragazzi ne avrei da vendere ma ho dovuto limitarmi passiamo ai primi della classe e sono questi tre per ora per ora ce ne sarebbero questi di kiko nella nuova collezione sono il plus ultra è lo 05 che è questo qua bellissimo ragazzi sono burrosissimi durano colore pieno bello da morire poi quest'altro che è il numero 0 2 non so se riuscite a vederli ed è quest'altro stesso opaco colore pieno profumoso di zucchero una meraviglia e poi abbiamo questo qua che è lo 04 non poteva mancare questo brillantinato sul rosso per il periodo ma ho anche gli altri e avrei dovuti mettere tutti non potevo perché sono uno più bello dell'altro poi come rossetto anche questi qua di Huda Beauty sono fantastici perché sono molto duraturi hanno un profumo meraviglioso e dei colori spettacolari questi sono ne ho diversi e posso garantire che sono fantastici poi di NYX nel calendario dell'avvento che le mie figlie mi hanno regalato ho trovato questo rossettino mini ma così bello ma così bello guardate che rosso l'ho indossato il giorno di Natale perché più rosso di così ma per i rossi ce n'è un altro che vabbè di MAC non potevo non menzionarlo ed è Ruby V il rosso per eccellenza di MAC ed è questo ve lo svuoccio di lato questo qua è il top dei top e questo qui è stra famoso e li ho presi in miniatura sono bellissimi la borsetta proprio piccini picciò poi ci sono anche le tinte labbra ce n'è anche quelle di Kiko di Kiko di tinte labbra della collezione anche di Wonder Woman sì ce ne sono però non potevo menzionarle tutte perché anche quelle piccine che vi avevo fatto vedere in diversi tutorial io per ora ho fatto vedere il sunto di quello che adoravo anche di Kiko ho delle tinte labbra che sono veramente spettacolari niente questo è volevo farvi vedere il pennello di Real Techniques che io utilizzo per il mio i miei blush le mie terre più che altro per le terre questo qua lo utilizzo ed è fantastico lavo rilavo e non si rovina mai niente ora è tutto mi mando un bacio grande ah e mia sorella mi ha anche regalato dei guanti di pelle marroni fantastici che non ho qui però sono molto belli garantisco e questo come vi dicevo mia nipote niente ora mi mando il bacio grande ancora vi saluto spero che vi piacciono i miei prodotti alla prossima ciao ciao